Pesaro, capitale della cultura, si prepara ad accogliere una Pasqua all'insegna della cultura. Sarà un programma fitto di appuntamenti tra mostre, musei e monumenti che concederà ai cittadini pesaresi l'opportunità di farsi coccolare dalle bellezze del territorio. La prima data sul calendario è fissata per domani, 14 aprile, al Palazzo Ciacchi che ospiterà dalle 14.30 alle 18 un evento espositivo dove ci saranno alcuni dipinti e ceramiche dei musei civici. E proprio ai musei civici ci sarà un doppio appuntamento con Rembrandt Incisore curato da Luca Baroni con più di 100 opere di un classico dell'arte grafica che per la prima volta arriva a Pesaro e nelle Marche. Si continua poi sabato alle ore 10 con la visita guidata a Palazzo Ducale, il gioiello di Piazza del Popolo che racconta la storia della città. Da sabato a Pasquetta ci sarà poi un'imperdibile esperienza sensoriale alla sonosfera di Palazzo Mosca, l'anfiteatro tecnologico per un ascolto immersivo di ecosistemi e musica. E poi, sempre negli stessi giorni, il Museo Diocesano di Palazzo Lazzarini aprirà le porte al pubblico dalle 16 alle 19, mentre al Museo Nazionale Rossini prosegue l'itinerario ROF 15K, la libertà dello sguardo immaginario e visivo rossiniano, a cura delle Rossini Opera Festival. Per il contemporaneo le opere sul tema del corpo e del paesaggio di Renato Bertini saranno esposte dal 15 al 18 aprile al Centro Arti Visive Pescheria, mentre allo Spazio Bianco di Via Lungo si potrà assistere alla mostra di Hermanizzi, dove saranno esposte da venerdì a lunedì opere di grandi dimensioni che riflettono sul ritratto e sul senso di identità. E sempre negli stessi giorni sarà possibile al pubblico usufruire dell'offerta museale nella storica sede della Benelli, dove sono esposte 150 motociclette. Un percorso culturale che si concluderà sabato, domenica e lunedì, dove si potrà visitare nel Parco San Bartolo l'area archeologica e l'antiquarium di Colombarone, entrando in contatto con la storia più antica del territorio.